Musica Bisogna pensarsi come attori teatrali, è questo quello che si sta facendo. Si sta facendo teatro, a prescindere dal fatto che si balli o si canti. Il canto e la danza hanno sempre fatto parte del teatro. In questo modo noi lo stiamo rendendo un po' più professionale, lo stiamo rendendo un po' più nell'occhio di bue questa cosa. Però è importante che ci si pensi attori e ci si tratti da attori. E' importante studiare realmente come se dovessi portare Ibsen ogni sera in teatro. Quello ci può rendere dei performer migliori. Gli americani e gli inglesi hanno il vaudeville di partenza e c'è quindi un'attitudine teatrale sicuramente differente dalla nostra. Noi abbiamo un retaggio classico molto grande, molto importante anche per quanto riguarda l'opera. Questo retaggio non si può cambiare, secondo me. Si può metabolizzare, cioè si può cercare di entrare dentro questo bagaglio molto bello, però anche molto pesante che abbiamo e cercare un po' di, più che di svecchiarlo, di reinventarsi un pochettino. Bisogna un po' educare il pubblico, educarci anche noi stessi ad andare a vedere tutto, ok? E cercare di prendere tutto quello che c'è di buono nell'arte. Noi siamo abbastanza distanti culturalmente dagli anglosassoni, però questa cosa si può fare. Immagino e mi auspico che il musical sia portato avanti da persone giovani, assolutamente da persone giovani, da persone che sanno e possono rischiare. Quello che dico io è di andare, sì, assolutamente a studiare fuori e poi, tornando in Italia, di confrontarsi con quello che succede in Italia e le necessità che ci sono adesso in teatro in Italia e cercare di, appunto, entrare in questo flusso tipicamente italiano, che non ha niente di male, assolutamente. Dobbiamo forse imparare un po' produttivamente come mettere su uno spettacolo. Possiamo unire, dico una cosa che può sembrare scontata, ma il nostro cuore, la nostra arte, a tutti i calcoli millimetrici che si fanno a Londra piuttosto che a New York per ogni spettacolo. Quindi dal punto di vista di cover, dal punto di vista di swing, dal punto di vista di, diciamo, figure che hanno una identità ben specifica. Non ci sono molte persone che studiano organizzazione teatrale, o perlomeno l'organizzazione teatrale che viene insegnata in Italia ha un retaggio molto, molto, molto vecchio. È importante che il musical, soprattutto, sia considerato come un evento teatrale, ma soprattutto un evento. È un po' come organizzare una grande notte degli Oscar ogni sera per un anno intero. È molto difficile, è una sfida molto importante, ma che se ha successo può voler dire cambiare un po' la cultura italiana. Se abbiamo scelto di fare questo mestiere c'è un motivo preciso, ed è un messaggio che ci è arrivato, evidentemente, dall'universo, da chi per lui, ed è un messaggio molto preciso. Vuol dire che non dobbiamo mollare. Dal punto di vista della preparazione è importante che proprio il nostro strumento, il nostro corpo sia sempre libero e pronto a poter esprimersi al massimo. E purtroppo, e per fortuna, questo è possibile solo avendo una tecnica molto salda dietro. È importante studiare ogni giorno, questo non smetterò mai di ripeterlo, è sempre importante studiare, migliorarsi ogni giorno e sapere che ci sono dei giorni negativi. E i giorni negativi sono forse i propri giorni migliori. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS